Allora, buongiorno a tutti, buongiorno, siamo felici di avervi qui, io sono Mauro Volpiano, docente del Politecnico Storico dell'Architettura, sarò brevissimo perché ho il ruolo di Valletta e quindi presento la professoressa Menegazzi in pochi secondi e poi le lascio la parola perché abbiamo una sessantina di minuti credo da statuti della Biennale della Tecnologia e quindi mi fa piacere essere breve per lasciare poi il tempo a lei. Però vorrei soltanto dire grazie intanto Rossella di essere di nuovo a Torino perché nell'ambito delle attività che stanno facendo ora con il Politecnico in cui c'è sempre più una riflessione sull'incrociare la dimensione scientifica delle scienze dure, delle scienze dell'ingegneria con le humanities e ultimamente in questi anni si sta lavorando molto in questo senso perché ci si rende conto che anche le barriere della conoscenza e della formazione dei nostri studenti ma anche della formazione dei docenti in qualche modo passano attraverso l'intersezione di temi che sono anche molto diversi tra loro ma che si in qualche modo rafforzano e fecondano reciprocamente. Quindi abbiamo all'insegna di questa idea molte iniziative, una delle quali per esempio sono dei colloqui intorno ad alcuni libri che sono spesso libri di letteratura o d'arte che però è un'iniziativa dal professor De Martin, professore del Politecnico che ha avviato un po' sul modello anglosassone dei five books, questa discussione su alcuni libri e quindi innanzitutto vi invito ad andare se avete piacere sul sito del Politecnico o anche solo su Google e inserendo in nome del professor Sammenegazzo e riferimento 5 libri troverete una conversazione che noi stessi abbiamo avuto un po' di anni fa, poco recentemente in realtà ci sembra una vita ma un po' di tempo fa proprio su questi temi e poi ci sono altre conversazioni molto interessanti quindi questo. Direi che questo tema dell'Oriente a Torino non è un tema che cala in realtà in modo anomalo perché credo che molti dei presenti lo sappiano benissimo, Torino, Piemonte e Oriente è un binomio che ha secoli di storia io non so se vi siete affacciati magari a prendere un caffè qua di fianco e vi siete spinti a vedere il gabinetto alla china appena restaurato grazie al contributo a Compagnia di San Paolo voi sapete che in Piemonte noi abbiamo una tradizione di orientalismo meravigliosa ad esempio nelle residenze Sabaude Filippo Juvar, grande architetto messinese che ha lavorato in molti luoghi tra cui Palazzo Reale andava a Roma a comprare lacchi cinesi per montare appunto questi splendidi ambienti e gli ambienti alla cinese del Palazzo del Quirinale a Roma sono fatti smontando e rimontando delle meravigliose allestimenti settecenteschi tra 6 e 700 che provenivano da Villa della Regina quindi noi abbiamo i Papi e Pen a Gogone piuttosto che molte altre residenze quindi è ovviamente è un'attenzione alla Cina e alla chinoiserie ma anche al japonismo perché abbiamo tanti arredi per esempio nelle nostre residenze di corte porcellane meravigliose 6-7 centesche giapponesi perché c'è sempre stato questa fashion del Giappone che non è soltanto ovviamente dei Savoia ma in generale di tante corti europee però per dire che effettivamente e poi forse era già l'altra volta citavamo la presenza ad esempio a Torino interessante di un dono dell'imperatore Meiji e Vittorio Emanuele II che è l'armatura che c'è in Armeria Reale non solo per dire che questi rapporti poi sono continuati anche nel corso dell'Ottocento quindi con grande piacere che presento Rossella Menegazza e le lascio immediatamente la parola vi dico solo due parole ma credo che molti di voi la conoscano forse anche personalmente però Rossella è professore all'Università dei Studi di Milano è professore di archeologia, storia dell'arte e filosofia dell'Asia orientale quindi però è la tua dizione io sono burocratessa del Sabaudo e quindi tc è accademico dell'Accademia Ambrosiana socio di tantissime istituzioni anche giapponesi perché poi un po' la tua caratteristica è quella di interloquire direttamente con gli studiosi giapponesi e quindi forse di superare anche se volete proprio quell'idea tradizionale di japonismo che voleva dire guardare all'Oriente soltanto filtrato verso gli occhi della sensibilità europea gli studi che si fanno oggi in natura scientifica invece ci permettono di fare qualche cosa di diverso quindi ti interessa ovviamente di incisioni, di stampe giapponesi, di fotografia, la grafica e il design è uno dei temi di cui ti occupi di più con questa attenzione proprio alla contaminazione tra la cultura giapponese tra la cultura occidentale, la cultura giapponesi, i linguaggi artistici giapponesi soggiorni spesso in Giappone e hai fatto tante mostre, tantissime mostre molto belle, molto belle, interessanti quindi anche con un ruolo importante, abbastanza strategico ormai di divulgatrice di questi temi presso un pubblico anche più allargato e poi sei autrice di tanti libri, cito soltanto l'essenza del colore nel design giapponese che tra l'altro è tradotto, è pubblicato anche con Fidom e quindi è tradotto in inglese se non sbaglio anche in francese e quindi è un ruolo ormai anche internazionale su questi temi quindi grazie infinite di essere con noi questa mattina e ti passo immediatamente la parola, prego grazie, grazie mille e sì ormai è vero facciamo coppia fissa adesso spero che presto arriverà il momento di fare il contrario farò io la valletta intanto grazie mille per essere qui di domenica mattina che so insomma che forse tra un caffè e un pranzo della domenica non è facile combinare un incontro per me invece è un grande piacere essere in uno spazio così che mette un po' di soggezione a dire il vero a parlare di un tema che mi è molto caro e ho accettato l'invito immediatamente proprio perché è uno di quegli aspetti di lettura della cultura giapponese forse più affascinanti e che vanno un po' sfoltiti dell'aspetto appunto esoticheggiante con cui di solito lo si legge per invece dare una lettura un po' più profonda storica ma anche antropologica insomma di che cosa significa il gesto artistico soprattutto la produzione artistica e quindi anche l'utilizzo di tecniche e di tecnologie rispetto al rapporto uomo divino perché poi è di questo che parliamo in Giappone che non vuol dire idealizzare il Giappone come il paese della perfezione e del rispetto della natura che noi non sappiamo invece avere assolutamente no anzi direi che in alcuni casi è ben più distruttivo come atteggiamento di quello tenuto da paesi europei insomma occidentali non è quello ma sta di fatto che alla base dell'atteggiamento e dell'approccio giapponese al fare, al gesto, alla gestualità del fare cose e in questo citerei proprio uno dei più grandi designer stilisti e pensatori del novecento che è mancato in agosto che è Issey Miyake che forse qualcuno di voi conosce che ha proprio lanciato un progetto intitolato Making Things è stato il punto base di tutto il suo approccio alla tecnologia all'ingegneria applicata al tessi, all'architettura e anche all'ambito dell'arte per cui con questo tipo di approccio insomma vi propongo delle slide così su cui cercherò di aggregare appunto degli spunti vari per dare un filo conduttore di come un po' tutto l'ambito delle arti dall'arte performativa ma anche il mondo del sacro e il rapporto dell'uomo col sacro e degli spazi sacri fino ad arrivare invece alla produzione artistica e all'utilizzo dei materiali nelle diverse produzioni sia in realtà leggibile attraverso una lettura che comporta una comprensione della diversità del pensiero religioso, dell'atteggiamento religioso rispetto a noi, al nostro pensiero. Adesso se riesco a leggere lo schermo ma voi lo leggete meglio di me comincio con una citazione breve tratta dal Kojiki che è il primo volume pubblicato nel 710 dove si mettono per iscritto i fondamentali della mitologia che riguarda appunto la creazione del Giappone quindi il rapporto uomo divino e vi cito questo passo e poi vedrete per quale motivo la maestosa Amenousume, spesso la conosciamo come Usume appese fresche fronte del profumato monte del cielo alla corda che le rimboccava le maniche si acconciò la capigliatura con una bella ghirlanda e adornò le braccia con erbe e foglioline di bambù del profumato monte. Sistemò poi presso la porta della rocciosa stanza del cielo un recipiente capovolto, vi batté sopra i piedi con un baccano così assordante da restarne spiritata fece penzolare fuori le mammelle e abbassò la cintola del vestito fino a mostrare il sesso le pianure del sommo cielo sobbalzarono e uno scoppio di risa si levò da tutte le otto centinaia di miriadi di esseri rinchiudendomi disse ho oscurato sia le pianure del cielo sia le terre immerse nelle pianure di giunco cosa hanno Amenousume da fare Baldoria e tutte le miriadi di esseri celesti da ridere? è che esiste, le disse allora Amenousume, un essere meraviglioso che supera perfino te così gli offriamo un'allegra festa di benvenuto e Futodama aveva avvicinato lo specchio al punto da portarlo alla vista di Amaterasu, grande sovrana sacra che ormai non sapeva più bene cosa pensare e sempre più incuriosita faceva capolino dalla porta e stava per sforgersi oltre. Quando Amaterasu, grande sovrana e sacra uscì, le pianure del sommo cielo e le terre immerse nelle pianure di giunco riebbero la luce. Questo piccolo pezzettino tratto dal Kojiki è in realtà forse uno dei pezzi chiave di tutta la lettura culturale giapponese. È il mito della dea che riguarda la dea Amaterasu, la dea, la divinità del sole femminile in Giappone, nella cultura giapponese, che si rinchiude dopo aver litigato col fratello Susanoo un po' meno diciamo gentile di lei che con il suo comportamento un po' scanzonato e poco controllabile, insomma scatenava fuochi e fiamme sulla terra, decise di nascondersi dentro la caverna, di ritirarsi in questa caverna. Ovviamente se la dea del sole si ritira dentro una caverna e si chiude dentro, la piana di Yamato, la piana del Giappone ma significa tutto il mondo, cade nell'oscurità ed è la descrizione di questo momento quando tutte le altre divinità ovviamente del pantheon Shinto, quindi parliamo perché questo volume qui mette le radici del pensiero shintoista, disperate cercano di trovare una soluzione per farla uscire dalla caverna e la dea Usume, a meno Usume, decide di ribaltare un recipiente, di cominciare a battere i piedi in questa danza che diventa una sorta di danza quasi sciamanica fino a raggiungere, come capite anche dalla descrizione, in cui si spoglia, toglie le vesti e mostra il corpo nudo uno stato di trance che è quello insomma che poi lo stato ricercato da molti monaci, da molti eremiti per mettersi in contatto con il divino. Invita gli animali, invita gli uccelli, invita il gallo a cantare e a cinguettare ovviamente per muovere l'aria, per far rumore, per farla uscire, per attrarre l'attenzione e portano uno specchio davanti alla porta della caverna da cui avrebbero fatto riflettere la figura di Amaterasu appena si fosse affacciata per farle credere che c'era una divinità più bella di lei fuori dalla caverna in questo modo invitarla ad uscire. Lo specchio, oltre capite alla danza, alla musica, alla teatralità, di cui questo è il primo brano che descrive appunto la prima forma di danza forse giapponese da cui deriva tutto il teatro e la danza giapponese, in realtà ci parla dello specchio come oggetto sacro e di fatto lo specchio è proprio uno dei tre oggetti simbolo all'interno del santuario scinto che rappresentano il divino insieme alla spada e insieme ad un gioiello, una specie di virgola considerata appunto un gioiello sacro. Lo specchio che è interessante come oggetto che diventa anche simbolo del potere, del passaggio di potere, del riconoscimento del potere altrui e quindi anche un dono diplomatico e infatti lo si ritrova un po' in tutte le tombe, in tutte le camere mortuarie delle tombe di epoca antica giapponese. Ma non era su questo che volevo soffermarmi quanto sul fatto che il più grande drammaturgo di teatro no giapponese intorno al 1400 fa riferimento proprio a questo mito di idea della dea amaterasu e di ameno usume che diventa peraltro la divinità protettrice degli artisti e lo cita come l'inizio a cui fa riferimento per ritrovare le radici del teatro no e quindi della performance teatrale e di danza giapponese. Infatti dice ecco come iniziò il sarugaku, sarugaku vuol dire la danza della scimmia ed è una delle modalità di danza da cui poi nasce il teatro. Ecco come iniziò il sarugaku al tempo degli dèi, nel momento in cui la grande divinità che illumina il cielo si confinò nella celeste di mora rocciosa, il mondo sotto il cielo sprofondò nelle tenebre. Allora le 800 miriadi di dei si riunirono sul celeste monte kagu e volendo conquistare il divino cuore della grande divinità gli offrirono un kagura, una danza e incominciarono un seino, sempre un termine riferito alla danza, al teatro. Dalla loro schiena uscì ama no usume no miko tenendo delle bende votive fissate ad un ramo di sakaki alzando la voce suscitando un tuono con un rapido calpestio, quando ella fu in stato di possessione divina cantò e danzò. Poiché questa voce divina giungeva indistinta la grande divinità socchiuse la porta rocciosa, la terra di nuovo si illuminò, le divinità, le divine facce degli dèi splendettero. Il divino divertimento di quel tempo fu, si dice, il primo sarugaku. Le precisazioni si troveranno nella tradizione orale. Questo riferimento di Zeami Motokiyo, appunto, il primo grande forse sistematizzatore del teatro per cui scrisse tantissimi drammi, facciamo riferimento al teatro no, mi raccomando non al kabuki, in realtà ci riporta di nuovo all'importanza che ha la stanza in cui gli attori del teatro no si preparano per entrare in scena. Vi ho scritto questo termine lì in basso, kagami no ma, la stanzetta dello specchio, si chiama così il camerino degli attori e la camera, la stanza dello specchio è dove l'attore si trasforma prima di entrare in scena, quindi è uno spazio ancora più importante, se non importante, quanto il palcoscenico e il momento in cui la performance teatrale diventa tale, in realtà è il momento in cui l'attore dopo essersi vestito con gli abiti teatrali, dopo essersi preparato con una serie di riti, si pone davanti allo specchio del camerino per guardarsi, per riconoscersi, ma soprattutto per riconoscersi nel personaggio che andrà a mettere in scena e questo avviene solo quando l'attore mette sul volto la maschera, la maschera che è un manufatto tra i più belli dell'artigianato giapponese artistico ma che indossato ovviamente mette in relazione l'attore con gli spiriti, con le divinità che sono su quel palcoscenico, che proteggono e che in realtà sono su quel palcoscenico. Quindi diventa quel personaggio, spesso un personaggio che rappresenta esseri divini, soprannaturali e non umani e lo fa guardando la maschera, ringraziando quel personaggio che va a mettere in scena e soprattutto con dei riti che presuppongono anche un sorseggiare del sake e verso il palcoscenico che lo portano in scena. Quando apre il sipario del palcoscenico la luce che inonda il Kagami no Ma, la stanza dello specchio, porta l'attore in scena come se passasse dall'aldilà all'aldiqua e si ponesse al pubblico. Questo gesto che vediamo nel teatro in realtà è un po' il senso profondo che c'è in tutto il fare giapponese, nel fare appunto performing art e quindi intangible, anche se in realtà il teatro è abbastanza tangibile, ma anche nel fare quando parliamo di artigianato di diverso livello. Queste sono alcune delle maschere che appunto porta in scena l'attore del teatro no e che riguardano figure demoniache, ma che in realtà sono la trasformazione del sentimento umano più basso, che è quello della gelosia, dell'invidia, del sentimento di rabbia e di rancore provato verso qualcuno che si trasforma in demone, demone che distrugge sé e demone che distrugge anche gli altri. Qui lo vedete impersonato come un volto femminile con queste corna giganti, con questi capelli scompigliati, gli occhi dorati che escono dalle orbite, questa bocca ridanciana ma molto spaventosa. È uno spirito che mostra come non ci sia una morale, un giudizio di tipo morale sulle azioni, ma invece un pensiero in cui l'essere umano facilmente travalica quella borderline tra umano e divino con la possibilità di diventare demoniaco o anche una figura ovviamente non negativa, non demoniaca, ma spettro, fantasma, presenza diciamo ultraterrena ma non con caratteristiche negative. E questa è la prima differenza con la nostra cultura forse su cui si può portare una riflessione nuova. Questo è lo spazio del teatro no e lo vedete è uno spazio vuoto con questo grande pino che fa da scenografia ed è l'unica scenografia fissa che il teatro no tradizionale comporta ma soprattutto vedete appese alla trave di fine del palcoscenico che divide il palcoscenico dal pubblico, dalla zona del pubblico, quella cordicina arrotolata da cui pendono quelle striscette bianche di carta. Questo simbolo è un segno che è legato allo shinto, al pensiero panteistico, al pensiero animistico giapponese che esula dallo shintoismo in quanto religioso di stato ma si rifà appunto a questa presenza divina anche si dice nell'ultima punta di rapa. la divinità è presente fin nell'ultima punta di rapa e questo segno indica che il palcoscenico è luogo sacro come se fossimo di fronte ad uno spazio dentro ad un santuario. Questo tipo di segnale, di segno, lo troviamo spesso lungo le strade nei parchi del Giappone ad avvolgere un albero secolare particolarmente segnato dalla storia, dall'intemperie, dagli anni, dai secoli anche di vita e come vedete di nuovo c'è questa corda fatta di piante di riso avvolta intorno al tronco con questi fasci di riso che è come se fossero le piante di riso messe ad essiccare con la testa in giù e queste fascette a zig zag. Questa corda si chiama shimenawa e queste fascette che sembrano dei fulmini sono gli shide e indicano proprio la terra, il riso, la pianta del riso legata ovviamente alla terra e l'acqua, il cielo, il fulmine, il temporale, la pioggia. Quindi le due potenze della natura e avvolgono quelle presenze della natura che in qualche modo simboleggiano in maniera particolare forte la presenza del divino in ogni elemento in realtà della natura. Quindi la dea materassu del sole come la dea uzume in realtà sono due delle divinità che possiamo citare, ma abbiamo poi la roccia stessa che è divina, abbiamo l'ortaggio stesso che è divino, il filo d'erba che è divino, tutto ciò che è umano, animale, vegetale, minerale, ogni elemento della natura è divino. Questo è un altro degli spazi fortemente simbolici di questo pensiero religioso appunto panteistico in cui due rocce che emergono lungo la costa vicino a Hiroshima, siamo nella baia di Futami Gaura, una più piccola e una più grande per motivi legati ad una natura straordinaria emergono e la gente di quel luogo ha deciso di legarle come se fossero un simbolo d'amore, di legame più che d'amore, di legame tra maschio e femmina, la roccia più grande e la roccia più piccola. Infatti sono chiamate le rocce marito e moglie. Vedete la corda che le lega e che le circonda e che le unisce è la stessa corda che abbiamo visto sul palcoscenico del teatro No intorno a quell'albero e che troviamo anche qui. E guardate bene sul cucuzzolo di quella spuntone di roccia più grande c'è anche un tori, un portale, un piccolo portale in forma di miniatura che è lo stesso portale che troviamo quando abbiamo accesso ai santuari Shinto. Quel tori in realtà ricorda la forma anche del trespolo su cui il gallo fu chiamato a cantare per far uscire la dea Amaterasu dalla grotta. Ovviamente questo segno che poi viene trasformato e diventa parte dei segni dei luoghi Shinto istituzionali, questo è l'Izumo Taisha, uno dei due santuari più importanti e più antichi del Giappone, si trova sulla costa occidentale del Giappone. Diventa anche un simbolo legato alla famiglia imperiale, ovviamente ad altri temi che non stiamo però ad affrontare. Il punto è però che diventa un'opera già di design in qualche modo, arriviamo già ad un manufatto che ha un intervento umano da parte della mano sapiente di chi conosce quel materiale e ne ricava un oggetto fortemente stilizzato, semplificato ma con un legame appunto con i materiali che lo riporta alla terra, al cielo, all'acqua e quindi a quel tenci, cielo-terra, che poi si studia anche nelle arti marziali e in qualunque ambito delle discipline orientali. Questo spazio diventa architettonico, a un certo punto si trasforma nello spazio architettonico. Vedete qui in basso a sinistra, dove c'è scritto emptiness, quattro paletti legati da una corda, che creano quello spazio vuoto che è lo stesso spazio vuoto della corda che avvolge l'albero, dentro cui l'albero appunto si trova. Che cosa significa? Creare uno spazio vuoto vuol dire dare la possibilità al divino di dimorare. È la possibilità della presenza divina in un determinato spazio in questo modo reso simbolico, ma significa anche che quell'albero e quella roccia che abbiamo visto prima sono ricettacoli e dimora del divino. Chi ha visto i film di animazione di Miyazaki ha visto questo aspetto in ogni piccola presenza di quei filmati. Quello spazio con i quattro paletti e la corda che circonda diventa trasformato il recinto del santuario scinto, dove si trova la casupola, l'edificio, che poi diventerà la dimora della divinità a cui non si ha accesso, non è uno spazio in cui l'essere umano entra ma rimane fuori. Ed è, se notate, lo stesso, la stessa forma architettonica del teatro, del palcoscenico del teatro Noh. Questo è il santuario di Ise, si trova sempre nella costa sud-est accanto a quella baia di Futamigaura dove si trovano le due rocce e come vedete ha uno spazio vuoto circondato da un recinto dove si trovano questi edifici che sono edifici in cui la divinità del sole amaterà su dimora. Qui abbiamo i simboli dello scinto, lo specchio come presenza del divino e questa è la parte interna di questo santuario che è disposto su ettari di terreno nella zona di Ise appunto dove però non si accede. È uno spazio chiuso ed è l'evoluzione architettonica di quello spazio che potrebbe essere fatto dai quattro paletti semplicemente con una corda che chiude lo spazio sacro. Entrare in quello spazio significa entrare in un'altra dimensione. Che cos'ha di caratteristico questo spazio? È uno spazio interessantissimo che mostra un'architettura semplicissima che va proprio alle origini dei materiali con pochissime decorazioni. Il tetto è fatto di cannette di paglia un po' come i nostri casoni dell'epoca antica e di nuovo sono rialzati come delle palafitte ma non si ha accesso. Tutto lo spazio intorno è completamente vuoto, semplicemente coperto di ghiaia. Questo santuario ha un'altra caratteristica che ci interessa dal punto di vista proprio dell'artigianato, del fare, della produzione dal punto di vista sia architettonico sia appunto artigianale ed è legata ad una cerimonia, ad un rito che è quello della ricostruzione ventennale dell'edificio centrale del santuario. Questa è una fotografia, scusatemi non è molto bella, l'ho presa da una rivista, è forse l'unica fotografia, una delle prime fotografie aeree da cui si può vedere il momento della ricostruzione quando c'è ancora il santuario vecchio e nell'area a fianco, che di solito è vuota, avete visto nell'altra slide, di solito è in questo modo, viene ricostruito il santuario nuovo perché poi quello vecchio venga abbattuto. Che cosa vuol dire questa ritualità della ricostruzione? Da una parte c'è un'idea di riciclo, di riciclo anche dei materiali che non vengono buttati ma vengono utilizzati in altri ambiti, per altri santuari, per altri templi eccetera, quindi non viene buttato nulla dei materiali che sono afferenti al santuario antico, ma si ricostruisce un'architettura che è identica, pressoché identica a quella d'origine, quindi è considerata originale anche quella nuova, non è una nuova costruzione ma è identica ed è considerata altrettanto originale. Si dà una nuova dimora alla divinità perché sia accogliente, la si ricorda, la si rispolvera in qualche modo, le si rende omaggio, ma questo processo di ricostruzione perché proprio vent'anni? In realtà è il processo ed è il tempo che serve a formare le maestranze di artigiani che poi faranno capo alla ricostruzione successiva. I maestri artigiani, i carpentieri che si occupano della costruzione del primo edificio sono quelli che formano la generazione che poi ovviamente seguirà la seconda e questi vent'anni non sono vent'anni di silenzio in cui un po' come succede da noi all'ultimo momento ci si sveglia e si dice guarda che entro l'anno prossimo dobbiamo avere costruito e finito i lavori. No, quando finisce la ricostruzione si parte subito con tutta una serie di ritualità che comportano delle azioni e dei riti, sempre legati allo scinto, che accompagnano ovviamente alla ricostruzione attraverso la selezione degli alberi che vengono scelti per i materiali del nuovo santuario. Ciascun albero viene segnato, avvengono dei riti con il prete scinto che accompagna appunto la scelta di questi materiali, l'accompagnamento dei materiali negli atelier dove vengono lavorati, l'intaglio di questi materiali che fa parte di un altro momento importante della scelta del materiale e tutto questo avviene scandito da decine e decine di cerimonie, la cui ultima sarà l'inaugurazione poi del nuovo santuario accompagnato ovviamente dalla visita imperiale e da tutte le maestranze e dalla cerimonia ufficiale che di solito avveniva storicamente in grandi cortei. Si chiede alla natura attraverso la cerimonia scinto il permesso di utilizzare i materiali e di trasformarli. Questo è il primo atto che accompagna questa ricostruzione, questo riciclo. In Giappone qualcuno lo racconta sempre in maniera molto pop ma invece cercherò di mantenere un certo distacco da questa cosa molto curiosa e molto così anche attraente per noi. Ci sono tutta una serie di cerimonie annuali legate al saluto per la dipartita di determinati oggetti che sono stati utilizzati da cui ci si vuole staccare e che si vuole ovviamente in qualche modo buttare. Questo è il degli aghi, gli aghi da cucito, che è uno dei momenti forse delle cerimonie più belle in cui si capisce esattamente in modo più pratico e più piccolo il significato della ricostruzione del santuario di Ise. Un ago da cucito che ha dato la propria vita in quanto oggetto creato dalle mani ovviamente artigianali sapienti di qualcuno che rimane in vita nelle mani di qualcun altro e porta avanti la sua missione di ago. Alla fine viene ringraziato e salutato e a seconda delle zone in cui questo funerale viene fatto l'ago viene piantato per essere vedete donato sull'altare di un santuario Shinto con il prete Shinto che esegue la cerimonia di saluto e di benedizione prima della dipartita o su una mattonella bianca che ricorda il tofu o su una mattonella come quell'arancione che invece ricorda un'altra forma di cibo scusatemi che adesso il konnyaku che è una specie di gelatina molto rigida un po come posso dire un po croccante ricavata da radici patate eccetera dolce che fa parte dei cibi giapponesi perché questi due elementi perché il tofu viene fatto attraverso due metodologie che utilizzano o il cotone la garza di cotone o di altro materiale e ovviamente quindi è legato al materiale da cui viene prodotto anche il tofu materiale che si lega no alla natura del lago di entrare nel tessuto per cui lo troviamo come cuscino funebre diciamo del del lago stesso e questa è una delle cerimonie più belle ce n'è un'altra ad esempio che avviene soprattutto nelle aree nord del giappone che è legata invece alla dismissione al saluto delle bambole i kokeshi che vengono portati su questa pedana e di nuovo il prete scintoista benedice queste bambole e queste bambole quindi incarnano un po tutti i sentimenti dati loro dalla famiglia e da chi le possiede e anche qui poi si procede no con il fuoco con la restituzione del legno di cui sono fatte alla natura e poi un'altra cerimonia a cui faccio accenno che è quella del don toyaki che si trova anche qui in tante zone del giappone dove le figure di daruma di questi bodhidharma che in realtà l'ha resa un po così in forma di giocattolo del fondatore dello zen e vengono infilzati e questi daruma che sapete vengono utilizzati disegnando un occhio e poi l'altro occhio quando il sogno il desiderio di chi lo ha espresso si realizza vengono anche questi mandati al fuoco in questa cerimonia con queste grandi pire che ricordano un po la nostra epifania e alla fine si cucinano i mochi ciascuna famiglia porta il proprio bastoncino con il mochi e cucina il mochi su questi daruma che portano in sé tutti i desideri avverrati ma anche le preghiere per l'anno successivo di solito avvengono proprio all'inizio dell'anno quindi tutta una serie di cerimonie che ci mostra questo forte simbolismo dato ad oggetti dell'artigianato perché parliamo di oggetti in carta pesta in ceramica in legno eccetera che vengono restituiti metallo che vengono restituiti alla natura senza essere gettati al centro ecologico e questo ci riporta all'ambito del fare questi oggetti del costruire questi oggetti quindi alla loro nascita questa immagine una bellissima fotografia del tatara della della fornace in cui si si plasma il metallo la materia che diventerà metallo e che diventerà poi spesso spada la katana nasce da questo ambito che come vedete è di nuovo considerato ambito sacro esattamente come il palcoscenico del teatro no e come il santuario scinto guardate sul fondo della fornace abbiamo di nuovo un angolo con la corda sacra con gli scide che pendono lo stesso shimenawa e dietro alla testa del signore c'è un piccolo santuarietto scinto con le offerte alle divinità dunque il luogo in cui si lavora la materia grezza fuoco e terra e fango e che diventerà poi la massa di metallo da cui l'uomo con la sua azione ricava poi attraverso la forgiatura la spada ma anche tutti gli altri processi insomma gli altri oggetti che derivano da questo tipo di lavorazione vengono ringraziati si ringrazia la natura prima di metterli in lavorazione prima di metterci le mani e anche qui abbiamo questo processo ovviamente che accompagna l'azione dell'uomo sempre all'interno di un processo che ritiene la natura delle cose dei materiali alla pari della natura divina non è l'uomo che comanda sul creato e sulle cose ma fa parte allo stesso livello di questa massa che poi darà darà vita alla spada questo è un altro esempio questa è la fornace invece presente dentro l'atelier di un grande artista ceramista del novecento che è Kawai Kanjiro la cui fornace si trova nel retro bottega della sua casa a Kyoto e vedete le due fornaci la prima fornace di cottura e il forno invece che è un forno di quelli a pendio sono tutti e due di nuovo accompagnati da questa decorazione che non è però una decorazione che è la stessa sempre corda sacra con anche quelle boccette che vedete poggiate sulla sopra l'entrata della fornace che sono le offerte ovviamente agli dei perché di nuovo qui abbiamo la mano dell'uomo che plasma l'argilla le ceneri e lavora con il fuoco quindi con una potenza controllabile ma anche pericolosa per l'uomo per costruire un manufatto che da questo deriva questa è la fornace tappata con le ceramiche all'interno con il fuoco che esce ovviamente da queste bocche e l'atelier dell'artista con tutti gli strumenti di lavorazione della materia che si trova proprio nella stanza che precede la presenza delle fornaci e alcuni degli esempi che meglio mostrano questo processo la mano dell'uomo che plasma la materia ma ne accetta anche le deformità le informità le irregolarità e anzi di questo fa tesoro per costruire un oggetto la ceramica racco questa di con amico ezzo del diciassettesimo secolo con queste caratteristiche bianche e blu questo è un esempio di racco rosso sempre di co ezzo vedete con queste forme informi dove l'irregolarità e l'aspetto grezzo sono in realtà la caratteristica per cui amiamo questo tipo di produzione che ormai è diventata questi sono tutti esempi tesori nazionali dell'arte giapponese ma ci mostrano proprio il passaggio dove il caos della materia viene plasmato ma non viene completamente tenuto sotto controllo gli si lascia anche la possibilità del caso di intervenire e questo è un prodotto dell'artigianato ceramico giapponese ovviamente in equilibrio perfetto direi tra la sapienza del maestro ceramista perché parliamo di una generazione che oggi è al sedicesimo maestro racco e la possibilità data alla natura di entrare con il caso nella forma finale dell'oggetto anche questa è una giara del dodicesimo secolo dove vedete tutte le ceneri e i blocchi di scarto della fornace attaccati agli smalti. Lo stesso sguardo possiamo darlo anche ai giardini che si sviluppano fin da subito intorno alle residenze aristocratiche e nobiliari giapponesi ma anche dentro agli stessi templi buddisti non all'interno dei santuari shinto ma all'interno degli spazi buddisti. Questo è uno dei bellissimi giardini del shointen del daisenin dentro al tempio daitokugi di kioto che è una città è una città monastero dedicato allo zen con tanti sottopadiglioni ciascuno dei quali ha il proprio giardino e le proprie sale dedicate alla preghiera e come vedete è uno dei tanti giardini zen che vanno anche molto di moda in miniatura pop di nuovo nelle nostre case antistress. Qui però si vede di nuovo lo stesso principio che incarna una ceramica Raku, l'intervento del monaco architetto perché sono giardini che risalvono al 1500, questi sono rinascimentali per origine, l'architetto monaco che sceglie le rocce, rocce di fattura diversa, di forma diversa, alcune allungate altre più basse, le aggrega in gruppi irregolari di due, tre, una, crea una sintesi e un equilibrio tra il vuoto tra ciascun gruppo di rocce, tra ciascun aggregato di rocce, si lascia che il muschio cresca intorno ad alcune creando queste isole e poi si lavora con la ghiaia per creare questa di nuovo grande rettangolo piatto che sembra vuoto ma in realtà è fortemente studiato con il lavoro manuale di rastrello che crea queste onde, vedete, parallele e poi circolare intorno a ciascuna isola. Questo è un altro esempio sempre di un altro angolo di questo stesso giardino dove però si mantiene la forma del giardino in stile cinese dove si ricrea attraverso l'artificialità, l'artificiosità, la costruzione di un paesaggio fatto di montagne e di acqua secondo il concetto cinese del sansui, del paesaggio montagna e acqua. Le rocce in fondo, quelle più in lontananza, mostrano i picchi delle montagne, si scende con dimensioni più piccole in modo degradante come se avessimo una cascata che ci accompagna poi al fiumiciatolo che viene davanti a noi attraversato da un ponticello sempre di pietra con questi elementi di pietre più grandi che come vedete emergono dalla ghiaia che ci rappresenta l'acqua e che rappresenta invece tutte le presenze sull'acqua che possono essere una tartaruga, un anatroccolo, una barchetta in maniera sempre simbolica. Quindi la sintesi in questi giardini di una geometria studiata in maniera perfetta come forse solo i giapponesi sanno fare ma anche permettere all'irregolarità della natura di entrare a far parte del progetto e il risultato finale è un giardino artificiosissimo ma di cui noi sentiamo la naturalità. Quindi talvolta questi giardini, non solo quelli secchi ma anche quelli camminabili nel verde, giocano proprio su questa capacità di farci percepire una natura ancora più bella di un paesaggio naturale di cui non percepiamo quasi la mano dell'uomo ma la bellezza dell'armonia degli elementi e qui vedete che il giardino secco prende a prestito il paesaggio del bosco, del boschetto dietro il tempio, dietro la recinzione ed entra anche questo a far parte dello spazio del giardino interno. Questo è il tempio Rio Anji ed è forse il giardino zen più famoso in tutto il mondo da cui si è ispirato anche John Cage per le sue musiche e per le sue opere d'arte. Quindi irregolarità e valorizzazione soprattutto della naturalità degli elementi, in questo caso la roccia e i sassi e la ghiaia in tutte le loro forme, in tutte le loro misure. Lo stesso avviene in tanta scultura sacra. Questo è un esempio che fonde questa capacità di lasciar trasparire la natura dell'elemento di origine e quindi anche il rispetto verso lo stesso tronco scelto per la scultura prima che questa diventi figura sacra. È la figura di Yakushi di cui vedete la parte della coscia, delle gambe, la schiena e il torace, ricalca esattamente la forma del tronco dell'albero che è stato scelto per la scultura. Ovviamente le ritualità che accompagnano la ricostruzione del santuario di Ise accompagnano anche la scelta dei materiali lignei, dal tronco dell'albero appunto fino a tutte le fasi di lavorazione di quel tronco, trasformando il tronco scolpito in figura divina. Questa statua una volta che viene portata all'interno del tempio e vengono disegnate le pupille alla statua, in questa cerimonia che viene chiamata la cerimonia dell'occhio, diventa non più un tronco scolpito e una semplice scultura ma una figura divina e quindi sacra. Ma vedete che si mantiene anche qui in parte la naturalità delle forme del tronco. E questi sono altri due esempi per riportarci invece verso il manufatto più d'uso quotidiano e quindi all'artigianato, al design anche contemporaneo, sono due vasi. L'uno è la creazione di Senno Rikyu, il più grande maestro di cerimonia del tè del XVI secolo che ha lavorato a servizio dei più grandi condottieri giapponesi, ricavato come vedete da un segmento di bambù. Questa è proprio un'asta di bambù tagliata, la parte bassa del vaso ovviamente è tagliata sotto al nodo, sapete che il bambù ha questi nodi di chiusura che lo rendono utilizzabile come recipiente, la parte alta invece lasciata aperta ed è uno degli oggetti che entrano a far parte della storia del design giapponese pur essendo un manufatto assolutamente artigianale ma l'essenzialità e la capacità di estrarre dalla forma naturale del bambù un oggetto così sintetico e così efficace anche lo riporta proprio alle origini del design giapponese. Vedete che tutte le imperfezioni del tronco del legno comprese le rotture, le screpolature, le parti di colore non perfette vengono sfruttate al massimo nella forma finale di questo vaso che conteneva poi dei piccoli fiori solitamente di campo che venivano esposti nell'ambito della stanza del tè quindi per accompagnare la cerimonia del tè. L'altro vaso chiamato musubi, di nuovo un altro concetto bellissimo che è quello di legame, di laccio, di legame anche tra divino e terreno, è opera di un altro grande maestro del bambù che è Izuka Rokansai degli anni venti del novecento e anche qui vedete la materia plasmata, la corteccia di bambù piegata, annodata senza alcun altro intervento tecnologico o tecnico ma semplicemente la capacità di plasmare il legno in quello che diventa di nuovo l'essenzialità dell'oggetto e dell'azione umana che si combina con le caratteristiche naturali della materia. Il passaggio da questi oggetti di artigianato alle origini è quello verso invece un design che qui diventa industriale, dei designer più grandi del novecento e anche del ventunesimo secolo. Questa sedia da tatami che vedete è tutta lavorata in un'unica forma arrotondata che è una sedia appunto da seduta a terra di Harakenia, uno dei grandi designer contemporanei e il butterfly stool che è una delle icone del design degli anni cinquanta del novecento di Yanagisori. Due lastre di legno ovviamente di legno plasmato appunto e piegato come due ali di farfalla uniti solo da questo gancio in metallo. Anche qui parliamo di design industriale, l'intervento è ovviamente, rende l'oggetto ripetibile a differenza degli oggetti che abbiamo visto precedentemente ma l'aderenza al materiale e alle caratteristiche del materiale rende questi oggetti quasi degli oggetti di artigianato dove l'azione umana e tecnologica è fortemente legato ancora alla natura del materiale utilizzato. C'è stata una mostra bellissima proposta proprio negli spazi di Isemiake a Tokyo in questa galleria 2-1-2-1 che si chiama, si è chiamata, è stata fatta nel 2012, che ha ripreso un concetto bellissimo del fare giapponese che è, lo vedete nel cuore blu di quel manifesto, tema-hima. Questa parola la ripeto sempre perché è una parola bellissima che porta dentro di sé il concetto di tema, quindi delle mani e il tempo di cui le mani hanno bisogno nel fare e chima, il tempo appunto. Indica quindi il fare manuale e la dedizione e la costanza e la pazienza e la concentrazione necessari al fare per arrivare alla cura dell'oggetto e alla sapienza artigianale, quindi mano e tempo è il concetto fondamentale. E qui l'ultima riflessione proprio che ci porta all'oggino, alla tecnologia e all'aspetto umano. Da una parte questo termine cogei che si rifà alle arti applicate in italiano e quindi a tutto l'artigianato, alla produzione più artigianale e l'altro termine design, in una mostra proposta da un altro grande designer che è Naoto Fukasawa. E questa linea di lettura che lui ha dato così anche visivamente è una delle più azzeccate secondo me che hanno portato nuove riflessioni in questo senso in termini contemporanei. Oggetti a cui noi siamo abituati che possiamo acquistare ovunque negli ambiti del design, che possono essere letti a seconda della prevalenza della mano dell'uomo del materiale naturale grezzo o invece dell'intervento ingegneristico, industriale, tecnologico e quindi una plasmatura dei materiali che va oltre le potenzialità del materiale, più come design e quindi come intervento artificiale o più come arti applicate, quindi nella dimensione della materia e dell'umano. E vedete che ha posizionato gli oggetti di qua o di là a seconda della percezione dell'intervento e della lettura di questi oggetti. E ne ha scelti alcuni che ha messo esattamente in centro, non identificabili con nessuno dei due ambiti, esattamente in un rigore e in un equilibrio tra le due fasi. Vedete che l'ultimo in fondo è una scopa di paglia di quelle realizzate nei negozi di artigianato giapponesi specializzati solo in scopi di paglia ovviamente, che diventa un oggetto di uso quotidiano ma in equilibrio tra design oggetto di essenzialità secondo il concetto di design contemporaneo ma ovviamente con tutte le caratteristiche dell'artigianato. E questa è proprio una frase con cui vorrei chiudere l'intervento che riporta di nuovo questa riflessione. Coghei o design? Coghei cioè il craft e il design nonostante siano tutti e due basati sul fare le cose, sul monozukuri che vuol dire fare le cose, produrre, si dividono in due categorie distinte. Cose che sono prodotte con le mani dell'artista e che si riferiscono quindi più all'artigianato, al cogei ma nel processo includono anche l'aspetto del design oppure nel design oggetti disegnati, costruiti, fatti da designer che hanno però dentro di sé anche quel senso di produrre le cose. Cosa vuol dire cogei? Cosa vuol dire design? Il tutto dipende dal processo e dai materiali, dalla mano dell'uomo e della macchina, dalla forma e dalla sabi, questa parola che indica la patina del tempo, il senso proprio del passaggio del tempo e la capacità dell'oggetto di trasformarsi anche attraverso l'uso di nuovo quindi nelle mani dell'uomo che ci riporta un po' tutta quella cerimonialità dedicata anche agli oggetti nel momento in cui li si saluta e hanno finito la loro vita diciamo di fianco all'uomo per tornare al divino. Mi fermerei qui. Applausi Mi ringrazio per aver fatto la bellissima lezione e la presentazione. Mi chiederebbe per qualche intervento L'estetica wabi-sabi Anche questo è un termine ormai come kintsugi e tutte queste parole un po' orientaleggianti che quando si sentono nominare vengono un po' i brividi perché sapete ormai c'è tutto il filone anche del sabi chic, del wabi chic occidentalizzato per cui è arrivato qui un qualcosa di questo sabi che poi si è trasformato in qualcos'altro. In realtà sono due parole staccate, due concetti che sono stati aggregati ma che in realtà hanno due significati diversi e che nascono e prendono il significato che viene anche oggi attribuito nell'ambito della cerimonia del tè. Sempre grazie a questi grandi maestri come Senno Ricchi che hanno un po' cristallizzato e standardizzato la cerimonia del tè quindi a partire dal 1400-1500. Sabi è il termine sabiru indica l'arrugginimento di un oggetto la patina che copre l'oggetto per cause legate alle intemperie, al tempo, alla polvere, all'uso anche al solo tatto delle mani che utilizza un oggetto e che lo sporca poco alla volta ed è forse il principio contrario rispetto all'ustrare gli argenti che abbiamo in occidente. è esattamente l'apprezzamento di una bellezza nascosta e un po' mite, muta direi, anziché la bellezza mostrata. Quindi Sabi indica proprio l'apprezzamento di un qualcosa di povero, non mostrato in maniera evidente e implica proprio l'azione del tempo sull'oggetto e Wabi indica in realtà anche l'austerità, la povertà di un oggetto, l'apprezzamento della povertà che è una delle caratteristiche un po' di tutti gli elementi che entrano a far parte della cerimonia del tè, dall'ambito architettonico agli oggetti e anche alla gestualità del maestro del tè verso gli propri ospiti, implica una povertà che indica invece la semplicità delle cose, non una povertà nel senso negativo, ma una povertà come si può immaginare perché tutto questo nasce in ambito aristocratico, non nasce dal popolo che forse aveva da mangiare sieno, nasce in ambito aristocratico, quindi sono concetti che nascono in un ambiente ricco, avvezzo anche al possesso di oggetti di un certo valore, da un punto di vista anche artistico, in un momento in cui l'importazione e l'apprezzamento anche di oggetti che vengono dalla Corea, dalla Cina e che entrano a far parte di queste cerimonie è un po' come in occidente l'apprezzamento di oggetti nelle proprie wunderkammer, ma senza che queste siano esposte, messe in utilizzo poco alla volta, trasformate nell'uso e apprezzate in un contesto che è una sorta di club o di incontri dove la gente sa apprezzare arte, gestualità, poesia, calligrafia ovviamente e poi alla fine anche la cerimonialità del tè. Quindi Wabi Sabi è tutto questo ed è un concetto legato fortemente alla filosofia zen. Quindi lo sviluppo avviene con quel tipo di lettura, di apprezzamento della povertà, della simmetria come abbiamo visto nelle ceramiche Raku, della patina del tempo nel caso delle lacche ma anche della semioscurità e dell'uso di materiali come il fango, il bambù fortemente legati alla natura anche nelle loro forme naturali anziché la manifattura finita, precisa e sgargiante e nasce un po' in risposta invece allo sfarzo che in quel momento era la prevalenza del pensiero e della situazione in cui si sviluppa questo tipo di cerimonialità. Sì, volevo insistere su questo rapporto soprattutto del buddismo zen con l'arte. Se qui si può anche vedere un po' generalizzando e banalizzando quindi un po' la differenza rispetto al modello occidentale. Cioè l'idea del vuoto e il fare che prevalgono sull'oggetto finito, penso non so anche al lenso, al sumie dove quello che conta è mentre lo fai, chiunque più che quello che lo fai, o il vuoto lenso che non si chiude rispetto alla quadratura del cerchio, un po' questa cosa che forse ci differenzia anche per il racello, la postura zen, il vuoto carino. Quindi se questo poi nella vita e nell'arte e nell'architettura si rispecchia un po' questa differenza. Senz'altro, diciamo che quello che abbiamo visto oggi ha moltissimo legame con il pensiero zen. un pensiero zen su cui bisognerebbe fare un altro intervento per togliere un po' tutti quegli aspetti di nuovo esotici che noi comunemente diamo allo zen, un po' come ai giardini secchi, eccetera, e al termine wabi-sabi, che sono mai entrati nella popolarità delle concezioni. Ma il lasciare la materia così grezza e asimmetrica e imperfetta fa parte di quel wabi che rispecchia l'apprezzamento delle forme al di fuori, delle forme ragionate, sistematizzate e date per scontate del pensiero logico che non appartiene al pensiero zen. Il pensiero zen è un pensiero che propone un percorso che va verso l'illuminazione, quindi il distacco dai beni materiali, attraverso la meditazione, prima la contemplazione ma poi la meditazione. Quindi tutte queste arti, queste discipline anzi, che si sviluppano all'interno e sotto l'influenza del pensiero zen sono appunto discipline, dove l'atto del fare è il punto su cui l'umano si concentra e non sul risultato finito. Per cui tanto nel cerchio enso, no? Del calligrafo, che può essere finito o non finito, ma non è quello il punto, tanto nella ceramica raku, quello che conta è l'intervento e l'essere presenti nell'atto della creazione. Temahima indica questo, no? La dedizione data e le mani in pasta, diremo noi, nel fare. Poi ovviamente io arrivo ad un oggetto che può avere una perfezione di per sé, ma che non è la perfezione della regolarità. È una perfezione dettata dal caso, dall'intervento della natura, dall'accettazione di questi elementi e dal mio saper fare. Ma io sono dentro l'atto, non sono nel prodotto finito, non ho un disegno che devo raggiungere per avere un prodotto fatto in questo modo. Cosa che invece ho nei due oggetti di design, nelle due sedute che vi ho mostrato. Non è quello. Quindi lo zen in questo senso entra nello sfruttamento dello spazio vuoto, di quel Q, viene chiamato, no? Ma, Q, rispetto al riempimento che può essere con i materiali nella struttura dell'oggetto o con la pittura nel riempimento di un paravento o di un dipinto. Ha tanto valore la parte non dipinta quanto la parte dipinta. Anzi, se guardate tanti oggetti di design giapponese, sono apprezzabili proprio per la capacità di togliere, anziché di aggiungere, fino a forzare, in questo caso, la natura di determinati materiali per renderli attraverso l'aria e l'uso dello spazio strutturali oltre le loro capacità. E quindi con l'intervento ovviamente qui tecnologico, non solo manuale. Io volevo chiedere per quanto riguarda appunto la manufattura e tutto ciò che riguarda il prodotto nella sua completezza e in quanto finito. Nel momento in cui avviene un errore, per esempio, durante la produzione, abbiamo detto che appunto viene apprezzato comunque l'oggetto perché è stato creato, c'è stato tutto un processo dietro che viene anche definito quasi diciamo divino, proprio tutte nelle sue componenti. Però viene apprezzato anche quando l'errore viene fatto per esempio nella costruzione di un materiale per una costruzione di un tempio, quindi qualcosa proprio di divino effettivamente o soltanto proprio nella quotidianità. Può essere, non so, una tazza che magari è cotta troppo o magari è crepata. Abbiamo tanti esempi e grazie perché è vero che poi ho anche generalizzato molto nelle cose che ho detto ma ovviamente quel collo di giara di epoca Heian tutto pieno di ceneri se avete fatto caso è una giara tutta piegata da sghemba, non sta neanche in piedi perché è tutta appoggiata su una sua forma perché è gigante, crollata durante la cottura ma in quel caso è stata mantenuta. a volte il caso supera anzi distrugge il progetto nella mente del ceramista in questo caso ma viene accettato perché in qualche modo provoca una bellezza diversa ancora più bella proprio perché crollata. Abbiamo tantissima produzione di questo genere nella produzione artigianale anche popolare non fatta da artisti ma fatta proprio per la quotidianità dove il crollo di un vaso del collo del vaso del fondo e le imperfezioni anche delle ceneri perché noi vorremmo anche poter cancellarle quelle ceneri per avere un'invetriatura perfetta invece no sono lasciate e c'è un ulteriore apprezzamento che è legato a quell'imperfezione a quella povertà che in realtà l'aderenza ai materiali di cui parlavamo prima quindi in certi casi ovviamente questo è accettato ma non sempre ci sono opere che sono considerate dei veri e propri disastri e quelle vengono riappallottolate lo si vede spesso negli atelier degli artisti e tornano di nuovo alla terra e al fuoco e fanno un altro giro nel forno quindi abbiamo entrambi i casi anche nella pittura zen nella pittura d'inchiostro monocromo dove ovviamente prevale il gesto istintivo ma super formato dall'esercizio come si dice sempre certo disegno una rana che è perfetta ma è frutto di altre diecimila rane che ho già dipinto fino a quest'ultima rana anche nella pittura monocroma io posso avere lenso perfetto il cerchio perfetto frutto di questo mio esercizio nel fare il cerchio perfetto ma avrò fatto prima cento cerchi che non sono perfetti prima di arrivare ad uno perfetto e posso decidere di buttarli o posso accettarli perché hanno comunque una loro completezza e in ogni caso in questa gestualità legata a questo tipo di pensiero è più importante la gestualità dell'atto del finire e ad esempio nella pittura se noi abbiamo un'imperfezione la si coglie perché è un'imperfezione che non è corregibile in nessun modo quindi in pittura è ancora più difficile questo ovviamente una ceramica la posso o la distruggo e la butto dopo la cottura o se non riesce bene nella manifattura iniziale quando è ancora argilla è cruda la riapallottolo e la faccio fuori nel caso di un dipinto ad inchiostro il foglio si può bucare la gora si può allargare sulla carta e la forma può non riuscire nella maniera che penso quindi in quel caso anche il dipinto viene eliminato se il maestro non lo riconosce oppure può succedere che invece formi una perfezione diversa accoglibile anzi apprezzabile un po' come nell'informale è lo stesso principio nei templi invece scusami nella costruzione architettonica invece ad esempio nella ricostruzione di Ise sono ammesse imperfezioni sono ammesse anche piccole diversità rispetto all'originale ma la struttura alla fine è sempre quella e la nuova struttura è considerata originale quindi diventa una ricostruzione simbolica ma fisicamente l'oggetto continua ad essere l'oggetto delle origini l'oggetto architettonico in questo caso io ho due domande una riguarda un libro che può consigliare lei per approfondire quest'ultimo argomento che ha appena trattato ovvero l'accettare l'errore come parte del processo la seconda invece che spero non sfoci in altri temi che non c'entrano molto con quello di cui ho parlato ora riguarda che lei ha parlato dell'accettare l'errore di tutte queste filosofie qua però a un livello visivo cioè che coinvolge soltanto la vista come senso questa filosofia qua di accettare le imperfezioni si estendeva anche in altre arti che coinvolgevano altri sensi come per esempio la musica la cucina oppure anche solo il tatto proprio dei materiali su cui lavoravi beh dei materiali parto dalla seconda dei materiali abbiamo visto che certo creazione di giardini creazione di ceramiche creazione di metalli in tutti questi ambiti della creazione attraverso le mani tecniche tecnologie c'è la possibilità di accettazione come abbiamo appena detto quindi non è solo ambito visivo ma è più artigianale tattile a cui facevo riferimento oltre all'aspetto pittorico quindi in questo senso sì certo anche nella musica sì abbiamo aspetti di questo tipo di creazioni in cui si dà spazio anche all'improvvisazione nel teatro ad esempio nelle performance teatrali la strumentistica che accompagna la danza e il canto hanno delle modulazioni e delle costruzioni che lasciano anche spazio all'intervento così spontaneo in qualche modo non perfettamente certo dentro a una regola ma che presuppone però anche la possibilità del singolo di intervenire con il proprio con le proprie modalità nell'ambito della cucina anche sì anche qui se pensi ai piatti della cucina kaiseki soprattutto che è la cucina nata dalle piccole pietanze che accompagnavano le prime cerimonie del tè che erano ancora incontri informali intorno al tè e che oggi è la cucina più raffinata invece dei ristoranti più raffinati del Giappone vengono presentati piatti su piatti su piatti piccolissimi con piccole pietanze variabili in cui viene sempre introdotto ad esempio un elemento portato dalla natura così com'è può essere una foglia un frutto un seme un fiore dei petali dentro al piatto perfettamente costruito quindi un tocco di imperfezione che è scelto ovviamente con cura come nei giardini e come in tutti gli altri ambiti ma esattamente inserito come la natura lo dona viene in questo modo portato nel piatto e quello porta ovviamente una morbidezza che altrimenti sarebbe quasi geometrica per la perfezione giapponese del dettaglio per cui il sashimi e il sushi te li metto nel piatto in un certo modo e la foglia che scelgo o il frutto di alkekenji con le foglie che ti metto lo metto in una determinata posizione che io scelgo esattamente come i sassi di quel giardino ma quello che tu leggi alla fine è quella rottura della perfezione che ti permette di sentire la naturalità della costruzione intera e per le letture non è facile suggerire delle letture per tutti gli aspetti che abbiamo trattato un libro è sicuramente quello di cui abbiamo parlato anche nella nostra conversazione anzi ti direi suggerirei proprio di partire dai cinque libri che abbiamo registrato con il Politecnico e tra questi ce n'è uno in particolare anzi sono due uno è il libro d'ombra di Tanizaki Giuniciro degli anni 30 che non so se hai già letto ma fortemente consigliato è appena uscita la ritraduzione nuova quest'anno e l'ho appena comprato questa mattina anzi e nella ritraduzione perché lì ti dà il senso della differenza tra pensiero occidentale e orientale rispetto alla luce alla penombra alla patina degli oggetti quindi un po' tutto questo pensiero legato al Wabi Sabi e poi ce n'è un altro che si chiama Ore Dozio di un monaco del 1300 che parla dei principi del pensiero quando questo pensiero Wabi Sabi legato all'irregolarità all'imperfezione all'apprezzare i fiori di ciliegio anche nel momento in cui cadono a terra non solo nella piena fioritura quando tutti sarebbero capaci ovviamente di dire guarda che meraviglia di albero ma accettare anche la sfioritura come bellezza è questo volume di Kenko Ore Dozio tradotto in italiano partirei da questo poi se hai voglia di vedere il design mi devo autocitare ma scusami se lo faccio è vergognoso ma lo faccio è uscito nel 2014 questo volume WAH che so che è apprezzato perché è una bella copertina però guardando dentro c'è anche un po' di lavoro e parla proprio di design è artigianato senza confine tra l'uno e l'altro e attraverso la scelta fotografica degli oggetti presentati e la divisione per materiali mostra la diversa sensibilità verso il materiale e verso anche il senso dello spazio del vuoto della struttura della fare nell'ambito artigianale nell'ambito del design giapponese rispetto al pensiero occidentale quindi con uno sguardo da occidentale sulle caratteristiche della produzione artigianale e di design giapponese grazie mille prego ore d'ozio tsure tsure gusa bellissimo nome che indica dà proprio il senso dell'ozio tsure tsure gusa grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille